Sì, buongiorno! Volevo ordinarle 20 chili di formaggio, poi 10 pacchi di pasta. Grazie, grazie mille! Benvenuti al nuovo vlog di italiano in Argentina. Nel vlog di oggi vi voglio raccontare un po' come è stata la mia esperienza quando ho imparato la lingua spagnola. Io non sapevo praticamente niente di spagnolo, salvo quello che mi diceva, che mi correggeva un po' la mia ragazza, mi insegnava un po' di cose, però non sapevo assolutamente, basicamente, un emerito zero, senza dire altre parole. Bene, prima di arrivare qua, quasi avevo già beccato un lavoro in una gelateria. Era una gelateria piccolina, facevo gli inviti, tutte cose, però questo mi ha dato la possibilità un po' di incominciare un po' a sbloccarmi con lo spagnolo, ok? Questa esperienza mi ha permesso di stare in contatto con la gente, praticare. Ovviamente non è stata una passeggiata, però non sapevo praticamente niente, ho dovuto abituarmi e imparare velocemente, perché non avevo fatto lezione, non avevo studiato. Dopo un po' di tempo, per fortuna, l'ho potuto assimilare. Poi ho avuto altri lavori, altre gelaterie e adesso da un po' di anni ho varie attività, per mio conto sono autonomo. Poi sono stato a scuola, ho fatto tutta la scuola secondaria, poi la preparatoria dell'università e poi quello che qui si chiama preparatoria, ciclo basico comune e poi l'università. Ok, tutto questo mi ha permesso, tra i lavori che ho avuto, tra la mia ragazza, tra la sua famiglia, altre persone che mi sono incrociato, clienti, persone a cui ho prestato servizi, cioè ho sempre stato un contatto continuo con la gente, quello è stato quello che mi ha aiutato di più di tutto a poter imparare alla lingua più in fretta. Ovviamente poi con lo studio, con la scuola, ho praticamente completato con la grammatica, quello praticamente che mi mancava, perché più che altro la... potevo parlare, però scrivere faceva un po' fatica, però sforzandomi sono riuscito a parlare, ad arrivare al punto di oggi. È stata tanta forza di volontà, ho studiato, ho cercato di ascoltare tutte le persone da cui ho potuto, potevo imparare, continuo a farlo, ovviamente non è perfetto il mio spagnolo, ok? È un buon livello, me ne accorgo e anche me lo dicono gli altri, può migliorare ancora, però se non avete le forze di volontà, non avete voglia di imparare la lingua, di involucrarvi, di mettere un po' le radici sul posto in cui siete, allora sarà molto difficile, perché se continuate tipo dopo, non so, due, tre, quattro, sei mesi a parlare con la vostra lingua nativa del vostro paese, sia l'italiano, che sia qualsiasi altra, non potete mollare, non potete praticamente volare, dovete spiccare il volo praticamente e lasciare un po' quello che è la vostra lingua nativa e lasciare uscire dalla zona di comfort per poter imparare e involucrarvi un po' con quello che è il nuovo contesto in cui vivete e questo è anche un consiglio per poter andare a vivere da un'altra parte, qualunque paese sia, che non so, che sia l'Argentina o che sia la Spagna o che sia l'Inghilterra o qualsiasi altro, ce ne sono un sacco di paesi dove andare a vivere e ci sono un sacco di opportunità. Bene, con questo chiudo il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, come sempre mettete un like, sottoscrivetevi al canale e commentate tutto quello che vorrete e seguitemi in tutte le reti sociali. Ci vediamo alla prossima e buona settimana. Ciao!